Che era dura, durissima, lo sapevamo tutti già dal pre-partita. Due super giocatori negli spalti, tre in campo o quantomeno in panchina in condizioni super precarie. Purtroppo è andata male, sono mancate tante cose questa sera e vince l'Amatori Messina con merito e tanti canestri. Innanzitutto merito all'Amatori Messina perché ha disputato una buonissima partita. Merito a Galletta che ricordiamo è un giocatore che noi abbiamo seguito tutta l'estate. Poi per alcune incomprensioni non è potuto approdare qui da noi, dalla Vis, ha fatto una gran partita. Ma anche loro è una squadra che si sa che gioca bene, è una squadra che tanta gente fa la categoria da tanti anni. È un gruppo consolidato che ha tanti anni che gioca in C1. Noi di contro abbiamo su dieci giocatori, io non voglio attaccarmi chiaramente agli infortuni, però su dieci giocatori effettivi, quello che dovrebbe essere il roster, due sono in tribuna, tre erano in campo in condizioni meno mate, non si hanno allenato tutta la settimana. Checco D'Arrigo è il miglior allenatore del sud Italia per quanto mi riguarda, però non è un mago e non può fare miracoli. Al momento stanno andando avanti con quello che ha, speriamo che questo periodo di grandissima sfortuna termini presto e così anche noi ci toglieremo delle belle soddisfazioni. MVP in casa Redel, a mio avviso, Vittorio Soldadesca, giocava praticamente zoppicando, anche un rischio farlo giocare. Vittorio comunque è stato stoico, Vittorio si sa è un guerriero, un lottatore, in teoria lui non doveva neanche giocare, però ha voluto essere assolutamente della partita, infatti lo ringrazio per questo. Spero che possa recuperare velocemente perché comunque giovedì abbiamo un'importante partita a un turno infrasettimanale a Rosarno. Speriamo che sia lui che De Marco e che Scaffidi, infatti Scaffidi oggi infatti era molto molto sottotono, ha fatto la peggiore partita negli ultimi due anni, ma non chiaramente per dei meriti suoi perché fisicamente era debilitato. Speriamo comunque di recuperare al meglio per questo turno infrasettimanale e andremo e ce la giocheremo a Rosarno. Per mettermi la battuta finale anche questo drammatizzare, andando a Rosarno l'autostrada è quella, una sosta a Bagnara. Più persone ci hanno detto questa cosa qua, io credo alla fortuna e credo anche alla sfiga. L'anno scorso comunque non possiamo dimenticare che l'anno scorso ci è andata tante volte bene, quindi quest'anno chiaramente dobbiamo pagare i tazzi in qualche maniera. Le stiamo pagando parecchio perché comunque sono ormai dall'inizio del campionato che non abbiamo fatto mai una partita con tutti gli effettivi, a prescindere dal discorso Cavalieri. Speriamo che questo 2011 si porti via tutta questa sfiga e che comunque possa iniziare già da gennaio con il ritorno in campo di Federico e di Claudio a vedersi un'altra Redel.